guarda oh io faccio le rapine buonasera a tutti io sono con babbo natalia a fare rapine ci sono i sbirri saluta sbirro sbirro saluta faccio un foto su twitter vai salutate sbirri ciao belle uae vamos m1 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 moto c'ho a impound andiamo a prendere il moto e poi con quelle moto vado a fare le rapine è finito capodanno mica non giro è finito vai all'angolo oh bastardo sempre si suca suca oh bastardo ma che fai oh alza le mani ma che fai oh allora io devo prendere la macchina mia allora no moto invece e prendiamo la moto ah va bene va bene anche questa ti piace questa macchina oh entra in macchina sei puntato porco cane entra in macchina sei puntato entra in macchina veloce bella moto eh bellissima eh che bestia è un moto ti piace è molto bellino raga eh vabbè fa così moto guarda no no tranquillo 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 non ti ho pensato non è successo niente no questa macchina ma a me non sembra una moto eh si è una moto è una moto questo però mi ha regalato a me sembra più un muscle track no ma che mostre dimitri mi ha regalato sta macchina ah dimitri si si dimitri dimitri mi ha regalato bellissima mi piace un bot mentre dentro oh ma che cazzo è questo via porco cagna buonazera ragazzi ciao bello oh metti ho capito come devi fare capito la birra lui che birra vai mettiti a ginocchio cazzo birra ma che è di maschera la 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 e te perché hai testa così brutta faccia me hai sbattu un cazzo si testa brutta oh parli troppo ora ti sparo io ah sto zitto oh metti in ginocchio sta zitto a chi dice sta zitto te mi sei il mio stagio bastardo non capite un cazzo vai metti in ginocchio io vado a rubare cazzo vai ciao buonasera oppa fate subito oh ragazzi dovete fare like da tanto che non abbiamo da tanto che non faccio diretto dovete fare like oppa va dove si bere cosa si bere dove si bere non ci sono stavano rimando eh metti in ginocchio veloce veloce in ginocchio cazzo in ginocchio cazzo in ginocchio cazzo veloce occo occo che è quello aiuto buonasera dica dica eh esco un po' non la sento non è ah non lo senti allora va ti al lavare le orecchini vai ok ora ti sento meglio allora perché rapida bobo natale aiuto è finito capodanno capito è finito natale però ancora in atmosfera natalizia siamo ma che cazzo mi ne frega natalizia io cazza mia io faccio che cazzo mi pare ma no però rispetto a libertà altrui eh la libertà altrui eh l'espressione volete birra oh sta zitto bastardo di merda bobo natale ma deluso cazzo oh cazzo oh alza le mani allora che volete non capito io allora allora questo bobo natale in cambio la fuca pulita la fuca pulita però non si però non le prometto ovviamente con non la inseguiamo a me in seguiti dove non le posso dire su in me sa pure di si anche lì vabbè allora seguitemi su instagram e me uno duro a fare un foto e facciamo un foto anche su twitch e su youtube e su tic tac io faccio un foto su twitter vai salutate sbili ciao bello a posto pubblico adesso posso andare a rivederci no oh dove vai bastardo scusa 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 tutto bene esco ok ciao oh porco e cane oh oh ostaggio è ostaggio ma che ma che oh ostaggio è andato via ostaggio dov'è ma che ho arma e dove è mio ostaggio ma che cazzo volete ma rimorrezione ma va vangula cazzo ma porco cane no ma che è morto è morto porco e cane che parla è ostaggio scappa io che devo fa bastardo stagio di merda come godo orti godo gli aspetti sbili fuori cazzo arrivo arrivo che cazzo è sta roba ostaggio scappa mi fate facendo i fail mi fate facendo vado un culo dove è ostaggio oh entra dentro bastardo non è andato round aspetta aspetta parlo un po' con ostaggio vada vada coglione di merda oh porco oh ma oh 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 va bene ostaggio morto va bene uguale dai dai che frega dai va bene ostaggio morto pezzo di merda pezzo di merda cazzo scapi bastardo eh avvangolo no 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 sto riscaldando il motore via là e no no le ma non ci passano si le ulteriori oh 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 e son qua son qua son qua son qua oh il cane è qui porco cane dove è droga ma che cazzo messo scappo scappo dai corri veloce dai veloce curi ecco ecco partita mi stanno prendendo ancora droga boi ora coro veloce raga aiuto aiuto vai posto non mi trovano più sbieri ma che è quello eccole oh ma si ma proprio qua se ti vengono i bastardi eh è questo qui che bastardo è non può entrare entra non entra entra hai cagato nooo ma che è oh 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 fermo fermo ma che è ma va a fare un cuffia ma che cazzo è vai pesce vangolo sbiri vangolo sbiri vangolo sbiri vai vai facciamo qua qua ecco ostaggio guarda è arrivato ancora ostaggio vieni monta dentro oh vai così bravo bravo monta dentro vai è puntato paolo ostaggio di nuovo vieni 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 ah dice a me ma dice a me si ah vaffanculo aia 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 chi ti ha insultato alza alza frank lui ma va va un culo fa l'amore con cassaforte si mi piace un botto buona cassaforte vai che ciao ferma qua fermo qua fermo qua ma buon natale 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 è finito te ora per un anno non lavori stai con noi ma tu sei quella che mi hai rapito prima no no aspettiamo sbir che arrivano poi ho tirato è stata con il casco ti fa male non deve vermo aiuto da un buon natale ma che scappa ma che scappa aspetta un attimo che cazzo ostaggio dove vai bastardo aspetta porto ostaggio dietro io aspetta vai no te non devi scappare rimani qua ora chiama chiama l'altra è quello più bravo per le trattative chi deve arrivare poliziotto apposta per trattative ostaggio aspettiamo dove bobo eccolo un po male c'è la beffanaia la beffana che ha rubato il lavoro adesso che fai perché mi picchi bastardo ha ucciso di nuovo stagio cazzo no no ma è vivo è vivo vedi si muove ma non è più io vi trovo io io vi ammazzo che mi fai mi ammazzi no ma ammazza poliziotto mettiamolo di po pinta che sia in salute lo rilascio no io gli dico io gli dico che non le riuscirò la balla che volete scusa avete ostaggio abbiamo ostaggio e poi possiamo vederlo frank fai vedere ostaggio frank sto stagio ciao ciao poliziotto ma che porco cane fai rientrare a rottura entrato ok allora cosa volete per lo stagio io io voglio 100 mila per lo stagio non vedo lo stagio è un po ubriano ce l'ho stavo buona legge lei come sta tutto a posto per morire sì mi hanno picchiato chiama che cazzo dice non è ma che è ubriano sta bevendo agenti ma volete quindi la fuga per noi vogliamo la fuga ma stai zitto te se lo stagio scemo cazzo allora facciamo così sono della sirena si fa va bene va bene ma buona vale vai con loro e ciao o scusa scusa non prendo non prendere vai a destra ma quale sirena ballo di marte quando decidiamo male serena bastardo tu 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 guarda il modo affan cuffia Voi vabbè andiamo a riposita soli Perché io devo andare a mangiare Lo porto a casa nostra in montagna Lo metto tutto dentro la macchina perchè c'è una macchina nel deposito qua Apposta Vai Così almeno facciamo meglio Mettete like su questo video Capito? Perchè sennò non esce il prossimo Io sto parlando ora per Youtube perchè esce questo video Esce su Youtube raga E poi in serio si chiama MoonRoyPlay Se volete venire a giocare Andate su InView e Link Anche dappertutto ci sono i link per entrare su Discord E giocare con noi su MoonRoyPlay E poi in questi giorni sarà FaceReview su Instagram E un foto io senza maschera Con bottone Però continuo a streamare con la maschera Cioè non è che mi smetto a streamare E niente e poi basta Esce ciao a tutti raga Buon appetito buon anno a tutti E ci vediamo Venite a giocare con noi Ciao a tutti Survi No 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 Grazie a tutti